Questa cosa manca, io sinceramente non saprei neanche come costruirla, è una cosa che va in qualche modo esaminata, studiata, approvata probabilmente, però secondo me se si limita a dire io sono la parte del lavoro perché difendo i diritti dei lavoratori, voglio le riforme, voglio cambiare le leggi, difficilmente si riesce a cosvolgere chi lavora. Se invece ci si mette nell'ottica di dire io rappresento quella parte, voglio in qualche modo farne una più simbolica della parte politica e in qualche modo voglio fare in modo che la coinvolga emotivamente al mio lavoro, al mio soggetto, forse ci sono più possibilità che quella parte dica sì, cioè quelli che rappresentano me, rappresentano noi, sono i nostri e quindi vale la pena in qualche modo unirsi e dargli una mano perché effettivamente mi posso identificare. La cosa è molto, da un lato banale e dall'altro pratica, possiamo definirla, cioè è veramente una questione di dove si allocano le risorse che vengono create col lavoro. Chiaramente, diciamo, non dico niente di nuovo, il lavoro crea un nuovo valore e questo valore chiaramente deve essere in qualche modo distribuito. La questione che io posso dire, diciamo, perché in questo momento secondo me indebolisce molto il mondo del lavoro, i lavoratori e le lavoratrici, è proprio l'assenza della discussione del lavoro dal dibattito pubblico. Normalmente un lavoratore o una lavoratrice partendo da una posizione di debolezza molte volte non riesce neanche a rendersi comune di qualcuno i suoi diritti e di quello che può andare anche a rivendicare o a chiedere. Quindi molto spesso, diciamo, aderisce, magari subodorando, diciamo così, che c'è qualcosa che non va, ma aderisce semplicemente alla tesi e a quello che gli viene detto dall'attore di lavoro che viene visto come parte forte, come parte che ha i propri consulenti, come parte che si può permettere l'accesso a una conoscenza che il lavoratore o quella lavoratrice stesso non ha. Così che il datore di lavoro, che ha sempre ragione, perché in qualche modo è una ragione che si la conosce con la forza, ma che la ragione può essere costruita con la forza anche dall'altro lato, in qualche modo. È un equilibrio che si deve ritrovare ogni giorno e che purtroppo in un conflitto come quello tra capitale e lavoro spesso non si trova. Questo accade poi in tutti i conflitti. Non si trova gentilmente, ma si trova anche con delle battaglie a volte nella loro assattezza, però comunque anche molto dure, di diritto o politiche. Cioè quello che manca è in qualche modo una rappresentazione simbolica del mondo del lavoro che riesca a permettere alle persone di identificarsi in un tempo classico, si diceva, ma comunque anche in un gruppo in qualche modo che rivendichi una battaglia e un obiettivo e comunque anche la forza di poterla vincere e raggiungere quella battaglia. Perché è vero che la precarietà in qualche modo rende i lavoratori e le lavoratrici più ricattabili, però è anche vero che dall'altro lato li rende meno legati a quel posto di lavoro, quindi diciamo con meno da perdere. Dopo il fascismo l'intervento che è stato visto come più urgente di tutti è stato esattamente il divieto e l'intermediazione di mano d'opera, che all'epoca era fondamentalmente il caporalato. Oggi è sempre caporalato, però diciamo si articola in maniere anche differenti. E questo vorrebbe dire l'abolizione delle cooperative a cui vengono appaltati il lavoro, l'abolizione degli appalti di lavoro, l'abolizione secondo me anche delle agenzie di somministrazione, in cui in questo momento, anche se legali quelle, si annidano con peggiori storie di sfruttamento che c'è in questo paese, per comunque restituire una responsabilità al soggetto che effettivamente utilizza le prestazioni, perché in questo momento noi ci troviamo in un paese in cui qualcuno utilizza, si arricchisce anche sulle prestazioni lavorative e altri, però si spoglia totalmente da ogni responsabilità nei confronti, sia dei lavoratori che anche dello Stato, con il pagamento di tasse e di contributi. E questo secondo me è il tema fondamentale nel mondo del lavoro oggi. ...dell'altro contropotere che deve bilanciare il potere che geneticamente è nelle mani del datore di lavoro, secondo me difficilmente si riesce a intercettare anche la voglia di cambiamento che inevitabilmente per una persona che tutto il giorno subisce comunque un potere sul posto di lavoro, una cosa che a lungo andare non è piacevolissima per nessuno e difficilmente lo riusciremo a intercettare parlando solamente di diritti, solamente di leggi e solamente di riforme. Io lo trovo un impatto importantissimo, ma se l'obiettivo è quello di ripostruire un soggetto politico effettivamente intercetti chi lavora, sia piuttosto sterile e sia più importante parlare e partire dalla rappresentazione di lavoratori e di lavoratrici, dalla questione del potere e dalla questione dell'empowerment, come si dice oggi per altri argomenti, però effettivamente è vero e così, da una sorta di entusiasmo, di riscoprire un entusiasmo dell'essere, un soggetto che lavora, che crea valore e che in qualche modo può guardare in faccia, non le farsi il cappello come si diceva nell'Ottocento e ritrovare un empowerment, una forza nella propria condizione che esiste ed è connaturata proprio al movimento della persona che lavora in qualche modo e crea valore. Perché spesso si ha l'impressione che i partiti o i movimenti che più agitano la questione siano molto più intellettuali che formati da veramente lavoratori che cercano proprio un referente per la loro lotte soggettivamente, anche in base alla tua esperienza di militante, nuovo soggetto, che caratteristiche dovrebbe avere per essere proprio un partito di lavoratori e non soltanto per i lavoratori? Io chiaramente se avessi la risposta a questo quesito sarei Lenin e quindi chiaramente non ce l'ho. Posso dare delle considerazioni generali. Io credo, ricollegandomi a tutto quanto detto sinora, che sinora in realtà nessun partito pur volendo effettivamente difendere i diritti di lavoratori e di lavoratrici si sia posto effettivamente la questione della riorganizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici e della rappresentazione, perché magari la riorganizzazione è anche elemento più sindacale e completamente politico, però della rappresentazione dei lavoratori e lavoratrici come classe sociale e non solamente come gruppo tra i gruppi, secondo me uno di errore è questo, parificare la classe lavoratrice a gruppi come possono essere gruppi LGBTQI oppure anche le donne, cioè chiaramente penso alle donne sono un gruppo assolutamente maggioritario, probabilmente anche più maggioritario rispetto al numero dei lavoratori e delle lavoratrici presenti, però chiaramente hanno una condizione di subalternità che però è diversa da quella di sfruttamento economico di una classe sociale, perché semplicemente sono due tipi di raggruppazioni, diciamo così, di raggruppamenti diversi. Il lavoro non è solamente una condizione esistenziale, io sono nata donna e quindi mi becco tutte le oppressioni in quanto donna, ma è una questione che chi lavora oltre ad avere una forma di oppressione in alcuna forma di potere, perché senza lui il lavoro non c'è il valore che viene creato e che viene in qualche modo acquisito da altri, diciamo è molto differente secondo me una condizione si parte intanto da una confusione che non sempre giova secondo me nessuno dei due, nessuno delle forme di oppressione che uno vuole in qualche modo combattere. Grazie a tutti! Grazie a tutti!